Come una madre, la chiesa di Chiavari accoglie con gioia due nuovi diaconi, due giovani di 25 e 30 anni che hanno percorso il cammino di formazione insieme nel seminario chiavarese e ora pronunciano il loro eccomi nel diaconato. Diacono, una parola che deriva da diaconia, ossia servizio. Il diaconato è il primo grado dell'ordine, il sacramento con cui alcuni fedeli sono costituiti ministri sacri, consacrati e destinati a servire il popolo di Dio. Con l'imposizione delle mani del vescovo e la preghiera consacratoria, i due giovani, nel loro cammino verso il presbiterato, vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità. Il servizio, dunque, lo stile che entrambi hanno imparato in questi anni di formazione nelle comunità della diocesi, provenendo da storie diverse e uniche, come uniche, sono le storie di tutti. Emiliano Malia è nato il 10 aprile del 1997 a Luschnia, in Albania. Primo di tre figlie, arriva in Italia con la sua famiglia nel 2011, stabilendosi a Rapallo. Nella parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio inizia il percorso di conversione alla fede cristiana. Il 4 aprile del 2015, nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, riceve il sacramento del battesimo dal vescovo Alberto Tanazini. Nel 2017 consegue il diploma in manutenzione e assistenza tecnica all'Istituto Liceti di Rapallo. Ha lavorato come cameriere barman a Santa Margherita Ligure e come assistente a bordo di alcune barche a Rapallo. Entrato nel seminario diocesano nel 2017, negli anni di formazione ha prestato servizio pastorale nelle parrocchie dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, di Santa Maria di Bacezza e Santa Andrea di Rovereto a Chiavari, nella zona pastorale di San Salvatore di Cogorno e nella Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso e anche nell'Unitalsi. Tra i suoi hobby c'è la palla a volo. Fabio Torri è nato l'11 ottobre del 1992 a Gravedone, in provincia di Como. Figlio unico, cresce nel contesto parrocchiale di Santa Maria Assunta in San Siro. Nel 2011 consegue il diploma in perito commerciale e programmatore nel corso di ragioneria per poi diventare dipendente della Banca Popolare di Sondrio, prima a Genova e quindi a Chiavari, fino al 2017, anno in cui entra in seminario. Ha svolto servizio pastorale a Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante, nella parrocchia dei Santi Gervasi e Protasio a Rapallo e in quella di San Michele Arcangelo a Casarza Ligure, sportivo, pratica nel tempo libero, atletica leggera. La chiesa diocesana li accompagna nella preghiera.